Buongiorno e bentrovati per la seconda edizione del mattino del Tg della mobilità. In strada per il secondo giorno le linee S, i 14 collegamenti attivati per potenziare il trasporto pubblico a supporto del ritorno in aula degli studenti, delle superiori. Le linee gestite da Astral partono dai principali capolinea di Cotral e dai nodi di scambio delle metropolitane per raggiungere tutte la stazione Termini. Le linee sono attive dalle 7 alle 10 e dalle 16 alle 19 al sabato, solo al mattino. A questo si aggiunge l'intensificazione di 28 linee bus della rete ordinaria di Atac, maggiori dettagli proprio sul sito atac.roma.it. Le altre notizie sul trasporto pubblico oggi e domani per un cantiere in via Angelo Emo deviate durante la mattina, le linee bus 490 e 495 in direzione della stazione Tiburtina. Intanto all'Eur per i lavori sulla rete elettrica di Viale Tupini sono ancora deviate le linee 31, 771 e 780. La strada è chiusa tra Viale Europa e Piazzale Parri. Per il momento è tutto, gli aggiornamenti nelle prossime edizioni delle Tg della Mobilità. Grazie.